è bellissimo perchè è molto bello è molto bello ecco per esempio lei che lo vuole fare? io faccio l'attore pignone basore totale ha detto termine francisco è per colpa sua che l'Italia va male lei contribuisce a fare che l'Italia stia andando male adesso lo faremo di essere qui è tutto giallo non ci siete a sentire mai ci siamo ci stiamo un po' più calmi allora adesso facciamo chiarezza sulla questione che cosa è? intanto noi vogliamo fare chiarezza qualcuno non vuole no 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 qualcuno non vuole no 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 cerchiamo di fare chiarezza non chiamassimo prima a fare chiarezza andiamo a parlare ecco un allora per iniziare facciamo un esempio un esempio ah ecco un esempio una freccia che significa la freccia? è l'Italia ma con la freccia non è chiaro ecco è un po' è un po' cosa avremmo potuto fare? sono tre opportunità tre opportunità la prima opportunità era poter vendere la società con tutti i debiti a un compratore straniero è la prima la seconda opportunità era vendere e fare fallire la società e venderla magari a qualcun altro sempre in qualche maniera un modo economico per noi contribuenti terza società è invece vendere la parte sana a qualcuno che ha i soldi e il resto lo paghiamo noi contribuenti è quello che abbiamo fatto tutto questo si può racchiudere si può racchiudere in una cosa che noi in termini tecnici scientifici diciamo si dice scl 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 che significa? sono cazzi nostri siamo sempre noi per rappresentare proprio il primo della situazione facciamo un altro esempio cerchiamo di fare chiarezza facciamo chiarezza che c'è? ecco questa è la parte adesso parliamo di babbo natale babbo natale ah tipo babbo natale è un termine attuale adesso parliamo babbo natale babbo natale diciamo deve fare un regalo a questo signore parliamo di economia parliamo di economia anche perchè noi economia abbiamo una sigla è una sigla che si è N-E-N-T N-E-N-T che significa? no euro no pa quindi cerchiamo di avere in quarta maniera noi andiamo su babbo natale questo signore per fare un regalo a questo signore spende 399,99 euro che c'è? tutto c'è? tutto c'è? tutto c'è babbo natale nel giorno di natale guadagna solamente 199,99 euro ah quindi? quindi babbo natale ha un disavanzo di 200 euro allora come farà babbo natale per mangiare le regne? come farà? ci sono 3 3 opportunità allora la prima opportunità è che ecco babbo natale vado in banca a prendere un mutuo fisso o variabile oppure babbo natale vado agli storsini no non penso che sia oppure le regne vogliono di fame ci sono allora comunque nello sviluppo se babbo natale vado alle banche le banche chiedono ecco un tasso indicativamente ecco questo 7% 7% se vado agli storsini praticamente ti chiedono all'ingipo un 7% e comunque alla fine alla fine c'è una sigla alla fine alla fine dei conti il risultato finale i termini tecnici scientifici economici vuol dire si chiude in questa sigla SCR che c'è? sono cazzi delle regne dai le sigre non moriranno le regne esatto bene abbiamo fatto bastante chiarezza sul mondo dell'economia beh io vorrei fare un ultimo esempio perché questo pratico dopo io ve lo lascio no 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 si spiega si spiega si è molto chiaro allora adesso gli facciamo un giro e gli facciamo un giro ecco facciamo un giro questo è un giro così questo è bravo questo è un giro invece no si capisce allora parliamo di alimenti ecco aumenta la pasta aumenta il cibo in ogni cosa allora aumenta tutto come faremo noi procurazione? aumentano tutti i beni primari allora come facciamo noi ecco che cosa mangiamo? che cosa mangiamo? che cosa mangiamo? che cosa mangiamo? allora ci sono tre opportunità non c'è chiarezza non c'è chiarezza non c'è chiarezza non c'è chiarezza eh si si allora le altre opportunità sono queste le prima opportunità che ecco noi effettivamente compriamo dei simi che non costano tanto compriamo dei simi andiamo abusivamente in un campo diciamo ma li piantiamo aspettiamo tre mesi e mangiamo qualcosa frutto della terra diciamo è frutto della terra nei tre mesi però uno potrebbe anche morire di fame e questa è un'incoglita che bello la seconda cosa ci mangiamo le unghie la seconda cosa ci mangiamo le unghie ecco le unghie le unghie in un posto paccioseglie voi impuntate qui qui la terza cosa aspettiamo che vogliano le renne di bambini e le macchigliamo sul posto io direi praticamente questo è un cerchio esatto per esempio io direi diciamo che ecco in ogni caso per combattere la crisi economica bisogna fare così ecco soprattutto per l'aumento per l'aumento dei costi ecco questa è una cosa più complessa ma non è per combattere diciamo il riassunto MMO MQ questa è complessa la sigla che in termini tecnici scientifici economici vuol dire mangiate meno oppure oppure mangiate per questo come è è è è è